Oggi proviamo un vostro videogioco Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ogni venerdì parlo della serie i vostri videogiochi E infatti se volete mandarmi un vostro videogioco In descrizione trovate il link di sviluppare i giochi Trovate la pagina dedicata Dove vi basta semplicemente compilare tutto il form E io potrò provare il vostro videogioco Ma oggi ne proverò soltanto uno Perché ho provato questo videogioco E ho visto che il concept era molto simile a un videogioco Che ho fatto per un brand tanti anni fa Così proprio come ho fatto in un episodio precedente Dove sono andato a confrontare i due Voglio fare la stessa cosa anche qui Quindi ragazzi non perdiamoci i chiacchiere Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link necessari Quindi i link ai videocorsi gratuiti Il canale Discord, il gruppo Facebook E niente quindi passiamo al videogioco di oggi Eccoci qui all'interno di Pixel Pizza Il videogioco realizzato da Zedamine Un ragazzo che ci segue da un po' di tempo a dire il verbo E la prima cosa che voglio subito farvi vedere È la scheda prodotto qui su Twitch Io ho fatto un piccolo zoom però così si vede normalmente la scheda prodotto What is Pixel Pizza Vediamo delle immagini sulla destra Anche com'è il videogioco You have only 60 minutes Ma al dire è vero abbiamo 60 secondi Non 60 minuti È la cosa subito che possiamo vedere però A parte questi piccoli errori che consiglio sempre di Mi raccomando fate molta attenzione Il gioco è in pixel art E anche il font ha questo stile Quindi complimenti veramente tanto Vediamo subito però com'è il videogioco Anche se dall'altra parte O anche un videogioco che ho realizzato io Per mondo convenienza Che rispecchia proprio lo stesso stile Perché anche nel mio gioco Dovevamo fare delle pizze Vediamo un po' com'è però Pixel Pizza Clicchiamo su Run Game Versione gratuita di Construct Quindi complimenti Io già il gioco l'ho provato E secondo me è fatto veramente veramente Molto molto bene Animazione Quindi scende il titolo dall'alto verso il basso Ci può stare questi tre bottoni E vediamo subito i vari bottoni Andiamo sui crediti Vediamo quello che succede Ecco qui i vari crediti Succede questa cosa Del font un po' più spostato Come mai Come mai Ok adesso si vede meglio Adesso si vede meglio Forse il full screen si era un po' buggato Però guardate un po' Noi in questo caso siamo in full screen E quello che avete visto prima C'era scritto di premere Esc per uscire Quindi guardate un po' quello che succede Io premo Esc Mi butto ovviamente fuori dallo schermo intero Quindi devo ricliccare Esc Quando non sono in schermo intero Molto molto importante Quindi secondo me Fate molta attenzione anche a queste piccole cose Questo perché Bisogna fare molta attenzione Soprattutto al dispositivo Che utilizzano le persone Quindi secondo me Come si risolve questo problema Mettendo semplicemente un bottone Per uscire dalla sezione crediti Oppure ad esempio Invece di premere Esc Premere un altro bottone Come Q O un altro tasto Anche se mi sta avvenendo un dubbio Se si preme Esc Per uscire dalla sezione crediti Vuol dire che allora Questo videogioco Non è per mobile Non lo so Ma adesso lo vediamo Quindi Clicchiamo sul bottone impostazioni Per vedere un po' quello che si può fare E guardate un po' quello che c'è Allora Dal mio punto di vista Meglio evitare di creare Un'altra schermata Soltanto per un bottone Pensavo che ci fossero più impostazioni Tipo difficoltà O altre cose Però Per chi ha l'occhio un po' più fino Come me Guardate un po' La scritta settings È un altro font Se tutto il videogioco Ha questo stile In pixel art Perché allora questo font Non è in pixel art Mmm Piccolo errore Molto molto importante Mi raccomando ragazzi E Guardate un po' Siamo nella sezione impostazioni Non possiamo tornare indietro Mi sono ricordato però Che prima si usciva con Esc Sarà la stessa cosa anche qui Mi butta fuori dallo schermo intero Riclicco di nuovo Esc E infatti funziona così Molto importante ragazzi Create dei bottoni appositi Clicchiamo però sul bottone play Per vedere un po' come questo videogioco Che sono molto molto curioso Ma più che io Forse lo siete voi Perché io già a dire il vero L'ho giocato Clicchiamo su play Ecco che mi butta sul gioco principale Tutorial Guardate un po' Quello che ho detto prima È che nella sezione impostazioni Il font era di un altro carattere Qui abbiamo altri caratteri ancora È molto importante secondo me Anche nella sezione crediti Che i crediti erano in un altro carattere Quindi molto importante Anche qui i caratteri non rispettano Secondo me lo stile del videogioco Pixel art Molto importante Cercate di creare un videogioco omogeneo A 360 gradi Sia dal punto di vista sonoro Ma soprattutto grafico Mi raccomando In breve la schermata del tutorial Ci fa vedere come giocare Clicchiamo su click to continue E guardate un po' Ok Ma che pizza dobbiamo preparare? Proviamo a farne una Quindi trascino la pizza in mezzo qui Proprio nel piatto per stendere l'impasto Prendo il mio cucchiaio Vado sul pomodoro Vado a rilasciarlo qui Quindi una figata È fatto veramente molto molto bene Sono contento del risultato Clicco su avanti E mi dice fallito Però guardate un basso quello che succede Pata pizza Quindi devo preparare una pizza con le patate Trascino l'impasto Metto il pomodoro qui Metto la mozzarella E forse poi si mettono anche le patate Però non so effettivamente Quali sono gli ingredienti Per realizzare appunto Una pizza con le patate E clicco su continua Vediamo come va Abbiamo appunto fatto in maniera corretta Però guardate un po' Di nuovo pata pizza Io non ho tempo per vedere La pizza che devo fare La comanda Non la riesco a vedere Il consiglio che posso dare a ZMine Che ha creato questo videogioco Fai vedere al giocatore Che sta giocando questo videogioco La comanda sempre lì a portate di mano Perché credo che sia veramente molto importante Guardate un po' Adesso ho cliccato Ricomincia Vi fa vedere di nuovo il tutorial Che consiglio comunque Di non farlo vedere più volte Ma soltanto magari Una volta sola Quando si gioca Poi se si ricomincia Se si riavvia il gioco Magari ci sta a farlo rivedere Clicchiamo su click to continue E non vedo mai la prima comanda Ma il tempo parte Quindi di nuovo prendo Prendo ad esempio L'impasto Prendo il pomodoro E vado a tentativi Faccio una margherita Vediamo se così è Non era così Nutella E infatti guardate un po' Prendo qui la nutella La rilascio nell'impasto E mando via la pizza Pizza con una le della fatta Pada pizza Il gioco è veramente figo Perché è fatto veramente bene Però già forse qualcuno di voi Si è accorto anche di un'altra piccola cosa Il font del tempo Tutto in pixel art Ma anche questo Guardate un po' Con un carattere diverso Molto importante Z-Mine Mantenere un certo stile Sempre Il videogioco però mi piace Perché rispecchia molto Il videogioco che ho creato anche io Un po' di mesi fa A dire il vero Molti molti mesi fa Quando stavo a Londra Io per mondo convenienza Ho realizzato questo videogioco Clicca per continuare Menu principale Dove entra appunto La mascotte di mondo convenienza Possibilità di comprare delle skin E poi guardate un po' Io clicco sul bottone play E guardate un po' Il tutorial Quello che consiglio sempre È di farlo guidato Soprattutto se nel nostro videogioco Si devono cliccare Punti diversi Guardate un po' Aiuta la mascotte Mondo convenienza A preparare le varie pizze Clicco per andare avanti Clicca sull'impasto Per stendere sulla pizza Come avete visto Il piatto cambia opacità Quindi lo riesco a vedere Mi si illumina Anche l'impasto però Si muove Questo cosa vuol dire Che mi sta indicando Questa animazione Che gli devo cliccare Animazione Per quanto riguarda L'estensione dell'impasto Nel piatto Clicco sul pomodoro Per aggiungere alla pizza Clicco anche sulla mozzarella Le olive nere E anche sul basilico E poi ovviamente Arriva la schermata tutorial Il più importante Che ti fa vedere Che dobbiamo rispettare Il tempo in alto a sinistra E ci fa vedere Anche tutti gli ingredienti Ma Se nel videogioco Pixel pizza Non si vedeva la comanda Qui praticamente Non è che si vede la comanda Si vedono gli ingredienti Molto importante Perché rimarranno Poi Sempre lì In modo tale Che il videogiocatore Sa quello che deve cliccare Anche se Nel tuo videogioco Ci poteva stare A livello di gameplay Però è molto importante Secondo me Magari renderlo visibile Perché se sfuggi All'occhio Che la persona deve fare Ad esempio La pizza con le patate È un po' un problema Quindi guardate un po' Vado avanti Ad ogni pizza Perfetto Teoria un punto mondo Va bene Va bene Va bene C'è un power up Vado avanti Vi faccio vedere in breve Proprio come funzionava Questo videogioco 3 2 1 Guardate un po' Ecco qui Impasto e pomodoro Quindi io clicco sull'impasto E poi sul pomodoro Guardate un po' Impasto Pomodoro Mozzarella Prosciutto E basilico E va avanti Guardate anche l'animazione Del personaggio Impasto Pomodoro Clicco sui funghi Errore E quindi ovviamente Devo rifare la stessa pizza Ovviamente non voglio Confrontare due videogiochi Perché anche io Quando iniziò ad realizzare Videogiochi Realizzavo giochi Molto più semplici Non voglio confrontare Due prodotti Però voglio farvi vedere Appunto che magari Potete prendere anche esempio Da un videogioco Di questo genere Poi ovviamente Si può fare sempre di meglio Sicuramente anche io Avrò commesso I miei errori Quello che consiglio però Anche di mettere Che c'è un piccolo problema Che mi sono reso conto Anche giocando Che io non so Quali ingredienti ho bisogno Per fare quella pizza In particolare Adesso qui abbiamo soltanto Tre pizze Margherita Pata pizza E quella con la nutella Quindi fino a qua ci siamo Però ad esempio Se mi appare Una ricetta in particolare Quali sono gli ingredienti Non ho nessun modo Per vederlo Anche se casualmente Ho scoperto che in basso Nella pagina di Itch Guardate un po' Qui ci sono gli ingredienti Di cui io ho bisogno Per preparare proprio Quelle pizza in particolare Molto importante Non bisogna mai mettere Queste informazioni Fuori dal videogioco Ma dentro Perché Non ha senso Che una persona Deva uscire dal gioco Per vedere ad esempio Gli ingredienti Per fare la patapizza Sono molto contento Di questo videogioco Che ha fatto ZMine Poi se andiamo Sulle impostazioni Possiamo anche vedere Che gli ha dato una mano Davide Galilei Per la cover image Mi fa molto piacere Vedere questa collaborazione Tra i ragazzi Del gruppo Sviluppare giochi Che loro hanno fatto Anche community Quindi sono Veramente molto molto contento E quello che consiglio È anche comunque Migliorare il game over Che come avete visto prima Il game over Comunque esteticamente Andava a creare Un po' Di confusione Mantenete il minimalismo Non cambiate sempre colori Utilizzate sempre La palette colori Che utilizzate anche nel menu principale Quindi ci stava secondo me Che il game over Poteva essere molto molto uguale Anche all'altro Mi piace molto il fatto Che la pizza si trascina qui Poi si rigenera Un'altra pizza qua Non possiamo più trascinarla A livello di codice È fatto veramente molto bene Passo il mio cucchiaio Sul barattolo di Nutella Lo rilascio sulla pizza E si applica Posso mettergli anche la mozzarella Però ovviamente è sbagliato Game over Score Best score Titolo game over Quindi ci può stare E bottone per tornare in home page Mi raccomando Molto molto importante Il discorso del bottone Esco Non c'è nessun bottone qui Indica come tornare indietro Ma devo cliccare Esc due volte Questo perché Avevo messo in full screen Utilizza un altro tasto Oppure semplicemente Magari metti un bottone Sono molto contento Del videogioco Che ha realizzato Zedamine Perché sta migliorando Veramente tanto Ci sono dei piccoli errori Ovviamente sono Secondo me Miei errori Però per altri Magari non lo sono E vi ricordo Ad ognuno di voi Che in descrizione Potete trovare il link Al videogioco Quindi mi raccomando Potete anche lasciare Un commento a Zedamine Per appunto Migliorare il suo videogioco Consiglio quindi a Zedamine Di continuare lo sviluppo Di questo videogioco Magari anche per mobile Di aggiungere Molte molte più pizze E di mettere Magari in prima vista Quale pizza Io devo fare Patapizza Adesso è apparsa Complimenti Continuate così ragazzi Che sono veramente Molto contento Quando fate questi prodotti Qui ad esempio C'è un'immagine Però questa immagine Questa schermata Non l'ho mai vista nel gioco Bisogna vedere È molto importante Ragazzi State attenti a quello Che scrivete Perché ad esempio Tu hai 60 minuti Per preparare le pizze Però 60 minuti Sono troppi E ovviamente Non si riferisce A 60 minuti Ma a 60 secondi Come avete visto ragazzi Il videogioco di oggi Era veramente Molto molto interessante Mi è piaciuto Veramente tanto Che ho detto Vabbè Ci ti dico Soltanto un episodio Poi Zedamine Lo conosco da un po' di tempo È uno di quegli iscritti Che c'è veramente Da tanto tanto tempo Quindi Complimenti ancora Al suo videogioco Anche se ci sono Tante piccole cose Ancora da migliorare Però Tanta roba Tenendo conto anche Che il videogioco È stato fatto Con la versione gratuita Di Construct 3 Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se volete rimanere Sempre aggiornati Con il mondo Dello sviluppo Di videogiochi Vi basta semplicemente Cliccare il bottone Iscriviti E in descrizione Come ho detto precedentemente Trovate tutti i link Per rimanere Sempre connessi Con il mondo Dello sviluppo Di videogiochi Ci vediamo Come ogni giorno Con un nuovo video E allora ci vediamo Domani Ciao Ciao